Il stadio del plebiscito una volta terminato anche il secondo stralcio del progetto, ovvero quello che prevede la realizzazione dell'anello a unione delle tribune e delle curve, nonché la copertura. A mostrarci il progetto del nuovo stadio polivalente, che sarà utilizzato non solo per il calcio, è il sindaco in persona. È un progetto che tutti ritengono anche molto bello, uno stadio che viene restituito alla città. Ricordo come attualmente lo stadio plebiscito non viene utilizzato, è inagibile, quindi è un'opera pubblica buttata. E mi spiace che qualcuno critichi questo investimento senza pensare come mai in tutti questi anni non è stato utilizzato e come mai sul parcheggio si è fatto qualcos'altro invece di utilizzarlo come stadio. Invece l'amministrazione comunale ha trovato nuovi parcheggi, partono a brevissimo i lavori di stimazione con i seggiolini, dopodiché iniziano i lavori ovviamente per le tribune nord e sud. E infine io direi stiamo valutando la possibilità di un ulteriore stralcio per completare quindi la copertura e la chiusura dello stadio, quindi per portarlo a più di 15.000 posti. Con la previsione anche di un telo speciale, veramente una novità anche dal punto di vista tecnologico, sorretto da una intelaiatura di acciaio. Un telaio che potrà essere utilizzato come un grande schermo dove verrà proiettato il nome dello sponsor o il nome dello stadio o le novità per la città e quindi potrà essere utilizzato insomma di volta in volta anche a fini anche di carattere pubblicitario. Quindi stiamo cercando, ma abbiamo già un paio di contatti molto buoni, lo sponsor per chiudere questa iniziativa. Non solo lo stadio ma bisogna ripensare alla viabilità, alle strade attorno, allargarle. Sì, poi tante preoccupazioni ovviamente da comitati ad hoc, creati ad hoc su qualsiasi opera dell'amministrazione comunale. Se pensiamo al comitato che è stato fatto per la Stanga, il comitato che è stato fatto per Ponte Vigo d'Alzere, il comitato per Bassanello, il comitato per Piazza Rabi. Insomma, tutti questi comitati che mi pagano, il comitato Boschetti adesso anche, sono comitati creati ad hoc che hanno natura appartamento di carattere politico. Non hanno capito che tanto l'amministrazione va avanti lo stesso e quindi anche in questo caso andremo avanti con il nostro progetto. Il progetto comprende anche la viabilità che a Ponte Vigo d'Alzere mi pare che abbia già da parecchi anni qualche problemino. Che invece noi stiamo tentando di risolvere con una soluzione a nord e una anche a sud. Il calcio Padova potrebbe riuscirci a giocare già nel campionato 2017-2018 o più tardi? Penso che per giocare le partite di rugby si possa già da ottobre. Dopodiché per giocare le partite ufficiali di calcio, per la gara e per i lavori, che sono comunque lavori importanti perché ci sono anche le tribune da fare. Quindi io penso che un paio di mesi dopo l'inizio del campionato il calcio Padova, il rugby e le altre attività potranno giocare senza nessun problema. Si è parlato molto anche dei costi. Secondo l'opposizione, secondo i comitati che lei prima citava, i costi saranno superiori rispetto a quelli sempre detti dal comune. Può fare chiarezza anche su questo punto? Questa è una cosa veramente di una banalità quasi imbarazzante da bambini dell'asilo. Uno stadio nuovo costa dei 50-70 milioni di euro. Invece qui pagheremo molto meno. 3 milioni di euro è il progetto dell'amministrazione comunale. Staremo all'interno di questo costo per quanto riguarda il primo straccio. I parcheggi verranno realizzati da APS ma saranno parcheggi a pagamento. E quindi tutta la parte di attrezzatura, le sbarre, le telecamere, la sistemazione del parcheggio, insomma viene fatto da APS ma è un parcheggio a reddito. Quindi avrà delle entrate. Quindi sono cose completamente diverse. Dopo se vogliamo metterci la rotatoria di Ponte Vigo d'Alzere, l'arco di Giano assieme, boschetti che non è molto lontano, insomma sommare costi che non hanno assolutamente niente a che fare, che comunque sono opere pubbliche. Quindi non sono cose che vengono sottratte alla collettività, sono cose che vengono in più donate. C'è da chiedersi, invece ripeto, come mai negli ultimi vent'anni per Padova non è stato fatto assolutamente nulla.